A presto Ma ma è lei? Ma che ci fai con tutti quei giocatori lì sotto? Siamo a sapere chi sei Sono Babbo Natale Mi raccomando non lo dirà nessuno Ma che io lo dico? Devi sapere che Babbo Natale è dotato di una serie di superpoteri Per riuscire a realizzare tutti i desideri Eh ma qui c'è un compito di interessi con il genio della lampada Ma che battuta imbecille Perdonate Se io volessi diventare Babbo Natale dico Ma i superpoteri non basta Quello che più conta è trasformarsi Se uno vuole diventare Babbo Natale deve essere buono Signori la trippa Sono buonissimo Davide Tu hai mai fatto qualcosa per qualcuno? Ecco questa è la mia lettera Non è la mia lettera E tu ho papbo Natale Ti vado a venire da noi la sera della vigilia Magari grazie Su che io poi alle undici e mezza Mi devo aiutare l'amico Quanti anni ha lei? 124 Certo è uscito L'altro giorno va dentro e dice Guarda io sono Babbo Natale Sì 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 Sì